ecco la super champions non è più come una volta tutto nuovo non ci sono più gli otto gironi da quattro squadre quindi non si può più parlare di gruppi di ferro ora gruppamenti abbordabili per le cinque italiane indizza come per le altre concorrenti c'è un calendario le cui date verranno rese note sabato 31 agosto che ha stabilito otto rivali per tutti i club 4 da affrontare in casa quattro in trasferta insomma una mega champions a girone unico che promuoverà le prime otto direttamente agli ottavi di finale mentre le classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per raggiungere otto elette per inter milan atalanta juventus e bologna l'urna ha partorito un calendario complessivamente equilibrato tra picchi di difficoltà e avversari modesti il sorteggio offre sfide di grande fascino per le nostre rappresentanti qualche esempio manchester city inter ovvero le protagoniste della finalissima 2023 stuzzica anche inter arsenal la corazzata pepe guardiola se la vedrà anche con la juventus all'allianz stadium il milan andrà a far visita al real madrid del vecchio amico carlo ancelotti il diavolo si richerà al liverpool per affrontare i reds di fedeico chiesa l'atalanta affronterà tra le mura e amiche real e arsenal oltre e andrà barcellona e bologna che dovrà andare al liverpool e due volte a lisbona sfiderà benfica e sporting al dall'ara arriveranno le tedesche bayern leverkusen e borussia dormo e borussia dormo